Allora, perché questo convegno no gender oggi qui in Regione Lombardia? Beh, intanto per presentare la nostra mozione, ovviamente che chiede che vengano ritirati tutti i libri gender dalle scuole e che non venga portato avanti questa teoria, che in realtà esiste e chi ce lo conferma, al di là delle tante parole che si sentono dire, è la senatrice Valeria Fedeli del Partito Democratico, che tra l'altro è prima firmataria di un progetto di legge che vuole proprio stanziare fondi per la teoria del gender. Quindi esiste, noi oggi spiegheremo che stiamo raccogliendo quelle che sono un po' le preoccupazioni di tantissimi genitori che insomma non si vedono coinvolti nel piano dell'offerta formativa all'interno delle scuole e che dove in alcuni casi, poi diremo anche quali, sono stati segnalati e documentati e effettivamente insomma si insegna un qualcosa che non ha nulla a che vedere con le discriminazioni cioè tentare di ovviamente fare in modo che non ci siano discriminazioni nelle scuole, che è una cosa assolutamente giusta e corretta. Se è un po' una deriva che rischia davvero di creare un qualcosa di diverso, un'ideologia che vuole annullare quelle che sono le, diciamo così, le diversità che ci sono tra maschio e femmine, insomma. Le differenze vanno comprese, vanno accettate e vanno rispettate. Questo va insegnato nelle scuole e non invece ad annullare qualsiasi tipo di differenza che c'è tra le persone. Ecco, cercherete di spiegare questo anche attraverso un video e un libro, perché cosa sono i contenuti? Beh, i contenuti ovviamente del video che spiegano bene cosa si tratta, cos'è la teoria del gender e quindi mi sembra giusto e corretto spiegare bene questo concetto. È un video che dura un quarto d'ora ma è molto chiaro e semplice, quindi che può far comprendere a tutti effettivamente cos'è questa ideologia. E dall'altra parte il libro Gender di distruzione di Gianfranco Amato è un libro che racconta i tantissimi episodi che sono successi nelle scuole, quindi è più un punto documentario di quello che è accaduto, delle varie denunce che sono state fatte e delle varie lamentele che i stessi genitori hanno ovviamente fatto nei confronti degli istituti scolastici. Il ministro Giannini ha rimandato indietro le vostre accuse sulla buona scuola, secondo cui ci sarebbe la diffusione della teoria del gender? E noi invece oggi proprio con legge alla mano, proprio sulla legge della buona scuola, come dice del resto, come l'ho detto prima, Valeria Fedeli, senatrice del PD, che ha confermato in un'intervista che effettivamente nella buona scuola c'è questo accenno a questa teoria, noi invece oggi dimostriamo quel contrario, con dati alla mano, carte alla mano, tutto inserito dentro un piano strategico contro la violenza di genere, per la parità di genere a livello nazionale e quindi in questo documento si fa proprio un accenno all'insegnare nelle scuole il superamento dell'essere maschio o femmine. Ecco, qualcuno mi spieghi cosa significa e cosa c'entra tutto questo, con una politica invece di insegnamento e di rispetto, rispetto a quelle che sono tutte le varie differenze che ci sono. E del ragazzino di Monza che è stato allontanato dalla scuola, cosa pensa? È in linea con la vostra emozione, con quello che pensate? Guardi, io non lo so, io prima di giudicare quell'episodio preferirei che si facesse chiarezza, perché il preside ovviamente ha dato una sua versione e il genitore ha dato un'altra, prima si verifichi cosa è successo, cosa è accaduto, qualora ci fosse un caso effettivamente di discriminazione, allora è giusto che si prendano provvedimenti. Ma invece nel caso in cui, come sostiene il preside, alla fine è stato solo fatto uscire dalla classe perché girava un video, un messaggio pornografico, a quel punto vorrà dire che sarà qualcun altro che dovrà chiedere scusa. Però prima di, ripeto, di giudicare è necessario, siete voi giornalisti che ci spiegate, non è della Lega, prima di subito di gridare all'altro, all'altro, di verificare bene come sono andate le cose. Bene, preso l'altro dei vostri insegnamenti, prima di giudicare voglio vedere come sono andati veramente i fatti. Qual è il pericolo per i giovani di queste teorie del genere? Pericolo della perdita dell'identità, cioè purtroppo questa teoria vuole annullare qualsiasi tipo di identità. Che si rischia? Il rischio è quello chiaramente di creare una grossa confusione, e che questo può avere degli aspetti anche psicologici, delle difficoltà nella crescita del ragazzo. Infatti cercano di entrare nell'ambito dei bambini, perché secondo i sostenitori di questa teoria l'obiettivo è quello che nell'età proprio infantile, che è il momento opportuno per cercare di creare questa confusione. Perché dopo crescendo questo è un elemento un pochettino, diventa un pochettino più difficile. Quindi noi che siamo sempre stati a tutela dell'identità, a tutelare le diversità nel rispetto delle diversità, questo è evidente, ovviamente siamo contrari a questa teoria. Cioè il rischio è che aumentino gli omosessuali? No, no, guardi, non è questo. Il problema è quello che io non capisco. Trasformare un maschio in una femmina e viceversa, oppure un omosessuale in eterosessuale e viceversa, a noi sembra insensato. Beh, ma è un po' eccessivo come timore, non crede. I ragazzi di oggi sono molto più aperti, diciamo, davanti a certe cose, che si trovano, come dire, a vivere nella società di oggi. Lo danno come dato assodato, non hanno bisogno di impararlo nelle scuole, forse. Beh, guardi, io, ripeto, non ho capito, non faccio fatica davvero a capire cosa significa trasformare un maschio in una femmina e viceversa. Cioè se qualcuno me lo può spiegare, io penso che i ragazzi giovani di oggi, ripeto, i giovani magari che hanno 16, 17 anni, quindi in realtà adolescenziale, sicuramente hanno più capacità di discernere su questi temi. Il problema è che quando si agisce invece su bambini dall'asilo in poi, chiaramente questo diventa più difficoltoso. Come dicevo prima, infatti agiscono sui bambini perché sui bambini possono plasmare e creare confusione, cosa che invece su un ragazzo ovviamente più adulto ciò non avviene. Quindi, ribadisco, sono cose che noi non reputiamo giuste, anche perché l'educazione alla sessualità e all'affettività dovrebbe aspettare ai genitori, questo è scritto nella Costituzione e non alla scuola, che forse sarebbe bene che insegnassi un po' di educazione civica e magari a rispettare veramente le differenze che ci sono tra le persone. Con la mozione cosa vuole ottenere politicamente? Beh, vogliamo fare un'operazione di moral suasion sostanzialmente nei confronti del provveditorato affinché faccio un monitoraggio nelle scuole lombarde e che questa teoria effettivamente non venga promulgata. L'Arcili in Milano ha detto che la Lega costringe così i omosessuali a vivere nella paura e abbiamo pensato di commentare a questo punto direttamente l'omofobia e le violenze che ci sono state, ma per esempio quella presunta per la Darsina in Milano. Ma guardi, quando non sanno come attaccarci e hanno paura di confrontarsi, io ho invitato tutti, ho invitato anche quelli dell'opposizione, ho invitato il Presidente della Casa dei Diritti, speriamo arrivi qualcuno, quando non sanno come confrontarsi, l'accusa che fanno in genere è omofobia, dietro questa parola qua si nascondono e non vogliono invece confrontarsi. Qui l'omofobia non c'entra nulla con questa teoria, non c'entra nulla, per nulla, assolutamente. E tornando al Ministro Giannini, addirittura minacciato di ricorrere le bilegali contro chi dice che c'è un, insomma chi parla di teoria gender sui di la buona scuola. Beh che mi denunci, sono pronto e disponibile ad andare davanti a un tribunale a sostenere quelle che sono le nostre tesi, senza nessun problema. Grazie.